Affrontare l'epidemia di Covid-19 significa approfondire tutti gli aspetti dell'infezione, dando così ai clinici in prima linea, in tempi possibilmente brevi, le conoscenze più ampie per gestire i pazienti. E questo è lo scopo di uno studio coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con altre strutture. Al centro della ricerca vi sono le correlazioni tra infezione da coronavirus e patologie già presenti nelle persone colpite, come spiegato dalla dottoressa Alicia Iacoviello. Vorrei aggiornarvi sull'andamento del nostro studio Fattori di rischio cardiovascolare e severità del Covid-19. Abbiamo già avuto la partecipazione di 33 centri clinici in tutta Italia, dal nord, la Lombardia, fino al sud e alle isole come la Sicilia e la Sardegna. Siamo già ricevendo i dati e a breve potremo dare delle risposte sull'importanza di fattori di rischio come l'ipertensione e il diabete nella severità della malattia Covid-19 e anche sull'importanza di farmaci come gli acinibitori e l'eparina, di cui tanto si sta parlando. Sono 18 i centri clinici italiani che hanno prontamente e con entusiasmo aderito sinora allo studio. Altri hanno già manifestato l'intenzione di partecipare a questa ricerca, mentre un forte interesse è venuto anche da alcune cliniche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Concretamente vengono raccolti i dati dai pazienti ricoverati per Covid-19 nei centri partecipanti, tutte informazioni poi sottoposte ad analisi statistiche per individuare i fattori che possono determinare un decorso più o meno grave della malattia.